Al via i sequestri nel palazzo di Chieti di Via dei Carecini che mercoledì pomeriggio è andato in fiamme a causa di una scintilla accesasi durante i lavori di isolamento delle canne fumarie sul tetto in legno. Dopo lunghe e difficoltose operazioni i vigili del fuoco erano riusciti a domare le fiamme nella palazzina che era in fase di ristrutturazione. Dopo essere stata sequestrata all'area distrutta stamattina è arrivata in procura una prima informativa. L'ipotesi di reato per ora è incendio colposo al momento a carico di ignoti ma già nei prossimi giorni le indagini coordinate dal sostituto procuratore Mari Caponziani condurranno alla notifica di avvisi di garanzia. Resta da stabilire con certezza quale sia stata la causa del rogo e se siano state rispettate le norme di sicurezza.